Salvini ha costruito quella parte di Europa diseguale ed ingiusta. A me fa un po' ridere che oggi Salvini si presenta come colui che vuole l'Europa diversa. Salvini è quello che ha votato il pareggio di bilancio, il fiscal compact, che è stato nei governi in cui si è dato manforte all'Europa delle disuguaglianze, all'Europa della disattenzione, all'Europa che ha lasciato solo l'Italia. Salvini ha fatto parte anche lui di governi che hanno dichiarato guerre da cui derivano le migrazioni, che lui è il carnefice e oggi fa la vittima mi sembra un po' curioso. Guardate noi sindaci, io come sindaco di Napo sarei il primo che potrei dire ma noi come facciamo ad accoglierli? Non abbiamo risorse economiche, non abbiamo luoghi, ma qua stiamo nella precondizione della comunità di esseri umani, cioè di fronte a delle persone che stanno morendo. Se tu non le salvi, ma chi sei? Che persona sei? Che cosa vuoi costruire? Che comunità stai pensando? Questo è il tema. Poi siamo tutti d'accordo che l'Europa ha lasciato solo l'Italia, potrei dire l'Europa ha lasciato solo l'Italia del sud, potrei dire ha lasciato solo innanzitutto Lampedusa, ha lasciato solo la Sicilia, ha lasciato solo Napoli, i governi che si sono succeduti in questi anni hanno lasciato solo i sindaci, però di fronte a questo per noi si riparte proprio dal senso dell'umanità, quindi credo che Salvini stia continuando a fare campagna elettorale. Se vuole cominciare a fare il ministro dell'interno togli i vincoli finanziari, tolga i lacci normativi che non ci consentono di fare politiche di giustizia e di uguaglianza e se vuole veramente sicurezza comincia a mandare donne e uomini delle forze di polizia laddove c'è bisogno di controllo del territorio e soprattutto la smetta di proseguire nelle politiche che mettono i migranti negli alberghi come depositi di esseri umani, non è questa l'integrazione, noi vogliamo politiche sociali in cui le persone sono tutte uguali e differenti. Napoli ha firmato per prima un protocollo importante come Napoli città rifugio che significa proprio basta i centri di accoglienza straordinari, basta i centri di detenzione amministrativa, sia le politiche di accoglienza diffuse in Italia e in Europa, così ci accorgeremo da un giorno all'altro che queste persone non sono un pericolo ma sono una ricchezza e soprattutto un'ultima cosa, basta con le politiche di guerra. Un'Europa forte, un'Europa credibile cominciasse a fare politiche di cooperazione internazionale in cui si aiutano i popoli in difficoltà, non le si va a bombardare, non le si va a sfruttare. Quindi penso che questo è il messaggio forte che viene dai sindaci, questo è il messaggio forte che viene dalle persone che sono rimaste umane. Qua veramente stiamo alla pre-politica, qua stiamo all'umanità, quindi bisogna capire tra chi rimane umano e chi ha perso l'umanità. Poi discutiamo di finanza, di economia, di politica, di guerre, di governi, di parlamenti e di leggi. Di fronte a persone che stanno morendo si presta soccorso, punto e basta. Ricordiamoci gli italiani cento anni fa quando andarono negli Stati Uniti e in particolare i meridionali furono accolti con l'affermazione i negroidi. Non dimentichiamo la storia per evitare gli errori del passato. Faremo di tutto per far venire questa nave nella nostra città. Ho anche scritto pochi minuti fa al Presidente del Consiglio, al Ministro delle Infrastrutture, al Vice Presidente del Consiglio, per conoscenza al Prefetto, ho detto che ci sono tutte le condizioni materiali, organizzative e di rete per accogliere immediatamente questa nave. Sarebbe un segnale bellissimo. Il Mediterraneo, la capitale del Mediterraneo che crea ponti di pace, che mette insieme le persone. Noi vogliamo costruire coesione, noi vogliamo costruire un Mediterraneo di pace, un'Europa più giusta, meno diseguale. Vogliamo costruire un'Italia coesa nella valorizzazione delle differenze. Basta paura, basta rancore, basta odio. Se costruiamo un'Europa in questo modo, un'Europa solidare, non ci sarà più la sofferenza di territori che devono dover gestire migliaia e migliaia di persone che diventa difficile. C'è qualcuno che poi ne approfitta politicamente di tutto questo. È proprio brutto approfittare politicamente su persone che stanno per morire nel mar Mediterraneo. Ma tu hai potuto vincere le elezioni, ma tu hai perso il senso della vita. Io preferisco perdere i voti e rimanere un essere umano per quanto mi riguarda. Vivo da sindaco di Napoli, da cittadino europeo, da meridionale e da orgogliosamente napoletano.